Perché avete scelto di investire nella concieria del Chienti e che risultati ha dato il modello con la cooperativa? L'azienda CTC è un'azienda molto importante che produce per la miglia alta gamma per calzatura e pelletteria. La gestione dell'azienda è molto buona e lo stesso anche la gestione del rapporto con la cooperativa. Noi abbiamo fiducia nella crescita dell'azienda, infatti è una questione fondamentalmente di tempo. Noi abbiamo acquisito l'azienda due anni fa e l'azienda nel corso di due anni è continuata a crescere e sicuramente l'anno prossimo aumenterà ancora la sua crescita.